Ed eccoci con Galbas, l'ennesima vittoria in questa stagione del Forte, questa molto sudata ma siete 10 su 10. Sì, oggi è stata una partita veramente complicata, trasferta un po' lunga, veniamo da due o tre settimane con tante trasferte, tante partite toste, ancora ci mancano un paio. E niente, ci sta che si complicano le partite, anche il Bercero è una bella squadra, il suo portiere ha fatto una bella gara, allora ci sta che si comprano questa partita ma alla fine abbiamo preso i tre punti che è quello importante. Assolutamente, alla fine si gioca per i tre punti e continuate a portarli a casa in questa stagione? Sì, sì, alla fine noi ci alleniamo per quello, per arrivare le partite, fare una bella prestazione, prendere i tre punti, ci stiamo riuscendo in campionato e quello è l'importante. Va bene, grazie e buona continuazione del campionato.